Per fermare i continui sbarchi sulle nostre coste, la Lega Nord che cosa propone? Non è neanche una grande novità, noi continuiamo a dirle queste cose. Finalmente si è accorto anche il segretario generale dell'ONU, bisogna creare un blocco navale, un blocco navale che non sia un servizio taxi per importare più immigrati, ma per fermare gli immigrati. Primo, il fronte della sicurezza, che noi sappiamo che l'ISIS ormai ha messo radici anche in Libia, che potrebbero esserci infiltrati dappertutto. Secondo, non c'è lavoro per gli italiani, non possiamo permetterci di caricare con dei poveri disperati che hanno bisogno di tutto, ma dovrebbero avere un lavoro prima per potersi poi mantenere e non possiamo mantenerli a vita. Terza cosa, oltre che al blocco navale, bisogna pensare anche, se vogliamo, umanamente, di creare sulle coste nord dell'Africa dei centri, centri di raccolta, non al di qua, ma prima della partenza, evitano le carrette, evitano morti in mare, tantissimi rischiano la morte e poi devono essere impatriati perché non hanno titolo né per chiedere asilo, né rifugio politico, eccetera, eccetera, per cui un'operazione umanitaria di cui se ne deve far carico sostanzialmente la comunità internazionale. Ricordiamo che la Lega da anni e da anni ribadisce questo concetto e sono state approvate raccomandazioni dell'OSCE a Vilnius 2009 e ad Oslo nel 2010 che dicono esattamente queste cose che continuiamo a ribadire e ci sono delle raccomandazioni, appunto due raccomandazioni OSCE che dicono che così si deve affrontare l'immigrazione, campi profughi più vicini ai paesi di partenza, assistenza pertanto, e perché più vicini? Perché appena finiscono le emergenze umanitarie o di altra natura queste persone devono poter tornare ai paesi d'origine, però è inutile far parte dei grandi organismi, deliberare o approvare le risoluzioni e poi rimanere inetti come ha fatto il nostro paese e come ha fatto gran parte dell'Europa.